Su dai sali e vieni anche tu, oggi ho una marcia in più. Dai vieni anche tu all'autosalone Nicola Rizzitiello, potrai trovare vetture nuove italiane ed estere e usato garantivo di tutte le macchie. E per i pagamenti non ti preoccupare, fino a 48 mesi senza cambiali o ipoteche con il solo anticipo del 15%. Automercato Nicola Rizzitiello, Rò, via Porta Ronca 53, telefono 930 64 81.